Noi il 10 di maggio in questa avventura, poi purtroppo il covid sono febbraio, marzo, aprile, matto, giuno, giugno, giugno, agosto, settembre, 7 ottobre, otto mesi che non lavoriamo. Quindi potete capire che due date al mese non bastano per mantenere un affitto, una casa, delle spese, delle bollette. Il mio cantante, ahimè, è dovuto tornare a casa e ha trovato un altro lavoro, però è come se fosse qui con noi oggi. Federico Verreschi. Chi lo sa? Se si riprenderà, sicuramente la porta qui è sempre aperta. Però so che questa canzone la fate anche voi. La cantava Federico, oggi avrei piacere di sentirla per la prima volta cantata da te. Vattene da me. Dove vai? Qua, qua. Da qui, da qui. Vieni qua, vieni qua. Ci siamo con le maghi? One, two, three, four, set! Michael! Io, soltanto io, capisco quello che ho dentro l'anima. Sì, io ti vorrei, ma voglio dare un senso ai giorni miei. Eh sì! E allora fattene da me, fattene perché ormai ho chiuso col passato. E anche se tu ritornerai, ci ritroverai, il tempo per noi è già finito. Una cosa può soffrire, l'amore, tu sai, però non mi hai ascoltato mai. E allora fattene da me, fattene perché cercavo qualcosa che non c'è. Sì, ce la farò. E anche se so già che sarà difficile, tu non cambierai, perché qui in fondo stai bene come sei. E allora fattene da me, fattene perché ormai ho chiuso col passato. E anche se tu ritornerai, ci ritroverai, il tempo per noi è già finito. Una cosa può soffrire, l'amore, tu sai, però non ti hai ascoltato mai. E allora fattene da me, fattene perché cercavo qualcosa che non c'è. E allora fattene da me, fattene perché cercavo qualcosa che non c'è. E allora fattene da me, fattene perché cercavo qualcosa che non c'è.